Ehi, Bobby, suona quella del cadere delle scale. Certo, Johnny. La amo! È così bello qui. Già, solo io, te e la luna. Ehi, voi due dovresti baciarvi. Eila, tra Tarugamina. Eila! Oh, ok. Ehi, amico, li finirei mai con i muffin? No, perché lavoro alla fabbrica di muffin. Vorrei che il mio cuo ne volasse. E ora, papere. Stavo per dire la stessa cosa. Su serio? Da paura. Già, siamo quasi uguali. Guarda, mamma, una tartaruga. Eila! Tieni questo. Ti darò un pugno in faccia. Ma è il giorno degli posti? Oh, no! Oh, no, io non ti calpesterò. Ho, no, io non ti calpesterò. Grazie a tutti